Auriga ha presentato a Londra due interessanti novità. La prima riguarda l'accoglienza dei clienti in filiale. Quali vantaggi offre alle banche questa soluzione? La nuova soluzione è importante da un punto di vista di gestione del rapporto con la clientela. Il cliente diventa la protagonista nella definizione dei propri appuntamenti, nella scelta dei consulenti all'interno della filiale, all'interno della banca, decide come gestire il proprio tempo e ottimizza la sua presenza all'interno della filiale. La banca può programmare la visita del proprio cliente, ospitarlo al meglio e spostando sempre più la relazione in maniera consulenziale piuttosto che fila per il prelevamento per azioni a poco valore aggiunto da un punto di vista della banca. La seconda novità riguarda il cash management. Perché avete arricchito la vostra suite con una soluzione dedicata a questo ambito e quali sono i benefici che assicura le banche? Sì, le filiali diventano sempre più cashless e quindi abbiamo lavorato e stiamo lavorando per rendere le filiali cashless. Il cash management era un anello mancante di questa catena, è importante perché ottimizza la presenza del cash all'interno delle filiali, evita disservizi alla clientela, migliora il rischio nei confronti delle assicurazioni da parte delle banche, quindi riducendo al minimo indispensabile la qualità di cash presente in filiale, ottimizza il numero di trasporti di pick up con il cash in transit e niente, quindi una filiale moderna in cui è tutto automatizzato e pianificato e pianificato anche la gestione del contante all'interno della filiale. La presentazione di queste due soluzioni a Londra non è casuale, Auriga sta puntando sempre più all'estero per continuare a crescere? Sì, noi abbiamo iniziato questo percorso nel 2012, quindi sono già 4 anni e abbiamo visto i primi risultati. Questa platea internazionale ha apprezzato molto, abbiamo visto la soluzione del Made in Italy, quindi anche lato software, quindi siamo orgogliosi di essere portatori di novità anche da un punto di vista tecnologico a livello internazionale, abbiamo dei riscontri molto positivi e questa sede ci è sembrata la più opportuna. State anche ampliando la vostra presenza diretta in alcuni mercati europei, dove siete già operativi con una vostra sede? Sì, noi siamo presenti con dei nostri uffici qui in Inghilterra, siamo presenti in Francia, abbiamo clienti in Portogallo, in Belgio, siamo presenti nei Balcani, abbiamo aperto un ufficio in Germania, abbiamo certificato la nostra soluzione software per il mercato tedesco e quindi ci accingiamo a lavorare anche sul mercato tedesco. Diciamo che nella nostra strategia l'Europa è un mercato che vogliamo indirizzare direttamente e quindi stiamo perseguendo questo tipo di strategia.